Musica Carissimi bentornati, salutiamo Giuseppe D'Acchioli Non è che ti invito un po' troppo, no? È solo la seconda volta quest'anno? Sì, la seconda Anzi, la seconda, l'anno scorso, perché siamo nel 2017, per cui la prima dell'anno Basta adesso per tutto l'anno, Giuseppe D'Acchioli, fine A posto No, ma senz'altro farà qualche altra stupidaggine Ho già dato, ho già dato Allora, come avete capito, siamo amici Purtroppo la mia età, invito a continuare a invitare ospiti E la gran parte li conosco, siamo amici, perché dopo tanti anni Dopo quanti anni ci conosciamo? Eh, saranno 45 Così tanto, come siamo vecchi Allora, quest'uomo, come io ho detto l'altra volta, ha cominciato a scrivere sulla tribuna delle opinioni E da quelle opinioni, quegli scritti, dopo un paio d'anni Io ho fatto una bella relazione, ho dato l'ordine ai giornalisti E lui è scritto l'alba di giornalisti e pubblicisti Però non gli è bastato Si è messo a scrivere le commedie in dialetto, perché lui è d'origine molisana Molisana E tutti gli anni lì lo chiamano, va giù a fare la festa Fanno le commedie in dialetto molisano, scritte da lui Bastava, non bastava, non bastava Si è messo anche a fare le poesie E adesso parliamo delle poesie Ma quest'uomo, oltre questo, ha alle spalle tutto un grande lavoro A parte la Svizzera, a parte il migrante Lavorato nelle ferrovie fino a quando è andato in pensione Con ruoli di tutto rispetto Tecnici di coordinamento a livello regionale, anche interregionale E poi è andato in pensione Poteva andare in pensione e scrivere le poesie, gli articoli e fare le commedie No, è diventato dirigente della Cogede Che è un'azienda intercomunale La SAB, scusate, la Cogede è quella delle acque Invece la SAB è quella della spazzatura E dei rifiuti E che ha aumentato i dipendenti Quindi è diventata una cosa più importante Non che ha aumentato i dipendenti perché doveva assumere Come succede giù dalle tue parti No, ha aumentato i dipendenti perché? Perché naturalmente era aumentato il lavoro Nuovi servizi Nuovi servizi, ovviamente nuovi comuni che erano entrati E quindi Servizi in più Servizi in più Servizi in più Fatturato in più Fatturato in più Dipendenti in più Mezzi in più Ma sei un meridionale anomalo Scherzo, scherzo Ce ne sono tanti No, lo so, ma voglio dire Secondo me l'ambiente Non sono le persone Se sei in un luogo dove C'è una certa mentalità Si produce il massimo Come tutti Voglio dire Una questione di essere siciliani Calabresi Pugliesi, eccetera Si trova difficoltà Quando vedi un ambiente Dove ci sono delle clientele Quando uno non riesce ad integrarsi Là dove Poi ogni regione ha la sua storia Le sue difficoltà Le sue eccellenze I suoi difetti E vabbè Lui ha dimostrato di essere un bravo amministratore E poi ha avuto le sue disavventure Poi ovviamente Essendoci dentro la politica Chi ci gioco su queste cose Magari gli stessi Che hanno delle responsabilità serie Ci giocano Scaricandole su chi è la vittima Di queste responsabilità Però ne parleremo Sui giornali Magari qualche schiaffone Lo daremo Adesso parliamo Delle poesie Allora Voi vedete Delle foto Io volevo mettermi La stessa giacca Adesso vediamo Poi se per combinazione Io però la stessa maglia Questa è la stessa maglia Perché noi domenica Qualche domenica fa Abbiamo presentato Il suo libro Esatto No è un'altra giacca Cavolo ho sbagliato Vabbè Fai niente Allora abbiamo pensato Che non è questo Collina del cuore Che è un libro D'anno scorso Questo È questo il libro Sogni Sogni E c'era Così Io ho fatto un po' Da coordinatore Ma erano presenti poi Il sindaco Di Treviglio Iuri Meri E il presidente La Cassa Orale La BCC Di Treviglio Che Grazioli Che chiama E la poetessa E la poetessa Ornella Merighetti Che ha letto Le poesie Sette mi sembra Poesie Di Beppe Dacchioli E secondo me Le ha valorizzate Le ha valorizzate Devo dire Che sia il sindaco Sia Grazioli Sono stati molto Diciamo Elogiativi Verso Più di me Molto Perché Io sono più ricco Quindi sono più cauto Ma tu sei più animale Nel dire le cose Più animale Ovviamente Nel senso buono Senso buono Ecco Allora Raccontami un po' Come nasce questo libro Allora Premesso Che Scrivere È stata sempre Una mia passione Quindi questo È l'ultimo sforzo Che ho fatto Ma io avevo E poi vai avanti No ne ho già pronto Un altro Ma completamente In dialetto Molisano 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 Che poi è una parte Molise è già piccolo Ma questa è una parte Ricordiamo che Chi non fosse della zona I comuni Noi adesso abbiamo Stiamo tramettendo Da Treviglio Ma se andate La nebbia In Trevigliese La nebbia A Caravaggio Che è qui A tre chilometri Quattro chilometri Da noi La borda Se poi andiamo In un altro paese A due chilometri Verso sud Verso ovest È un altro nome E così penso Che sia da voi Sì sì È uguale È uguale Io già avevo pubblicato Nel 2001 Un racconto Sulla acromatopsia Una malattia Che colpisce Gli occhi E il ricavato Era andato all'associazione Degli acromati Ma quella volta là Chiaramente c'era L'editore dietro Però Risultati Economici Perché se non hai Dei canali Di distribuzione Pur avendo un prodotto Decente E sufficiente Però chiaramente Non attira Non funziona Dopo Ho prodotto Degli altri volumetti Ma tutti Riferiti al dialetto Delle mie origini Ne ho prodotti tre E tutto il ricavato È stato devoluto O per adozione A distanza O per Sostenere Delle famiglie Bisognose Oppure Per acquistare Una statua Di un santo Che mancava Eh Tutte robe così L'ultimo lavoro Di due anni fa Che Si chiamava Frammenti di vita Dove Tu venisti Sempre a fare La presentazione La presentazione La presentazione La presentazione Il ricavato Ovviamente De tratte Le spese Andò devoluto Per L'AISLA Quindi la sclerosi Laterale Amiotrofica E l'associazione Ricerca Sul cancro Che Voglio dire A me Queste Questi lavori E queste destinazioni Mi appagano Mi appagano Credo che Bisogna Pensare Sempre a quelli Che vengono Dietro di noi E non mirare Esclusivamente A quelli Che sono davanti Le poesie Di questo libro Poesie di questo libro Sono L'ultimo anno e mezzo Quasi due anni E rappresentano Quello che il mio cuore Sente Vede Come palpita Rispetto A una serie Di problemi Quindi Tratta I migranti Tratta Le elezioni Amministrative Ultime Tratta Delle Malattie Tratta La nascita Di una nuova vita Sono tutte Questioni Che Io ho definito Sogni Sono sogni Che uno Vorrebbe Vedere A soluzione Quindi Sotto L'aspetto Di sogni Diventa Utopia E questa utopia Poi si infrange Contro la realtà Che per esempio Uno pensa Che i migranti Si potrebbero Bloccare Parzialmente Se ci fosse Un governo Mondiale E invece Il governo mondiale Non c'è Ci sono le guerre Da una parte Noi predichiamo La pace Eccetera D'altra parte Invece Abbiamo Le fabbriche Di guerra E quindi Abbiamo di fronte Queste stragi Che adesso È diventato Di Come devo dire Ma è arrivata La sua effazione La sua effazione E quindi ecco Questo Questo mio Questo tuo desiderio Di far sapere Come la pensi Sulle cose Senti ma L'importante Adesso è Questo messaggio Che dobbiamo dare Ecco Non dico vendolo Perché non lo vendi Fare un'offerta Per questo libro Prima di tutto Già distribuito Dove si va a prendere Devono chiamare te Ti devono cercare Su facebook Devono chiamare me Possono cercarmi Su facebook Sulla mia mail Giuseppe Chiocciola Dacchioli Punto It Ovviamente Il ricavato Andrà devoluto Ai terremotati Di Arquata Del Tronto Io ho scritto Al sindaco Di Arquata Con la PEC E immediatamente Ho ricevuto Risposta Ringraziandomi Già In anticipo Perché evidentemente Credo ci sia Una grande Mobilitazione Intorno a quelli Che sono i problemi Perché quel comune È scelto Ma perché quel comune Quel comune Perché Insomma Quando si parla Di terremotati Si indica Amatrice Amatrice Provincia di Rieti Rieti e nel Lazio Credo che il Lazio Sia molto più grande Come regione E magari ci possano Essere più Contributi Per quelle zone Invece Per quei comuni Per le regioni Più piccole Eccetera Credo io È un mio pensiero Magari Molto Molto Sbagliato E loro ho detto Vabbè Facciamo Arquata Del Tronto Perché il paese È più piccolo E Sì è vero Ma tu non sei nella legge Fornero Quindi sei andato in pensione A 65 anni Sono andato E mezzo Io ho lavorato 51 anni Adesso continuo a lavorare gratis Però ho lavorato 51 anni Sotto i sacri crismi E senti una cosa Abbiamo anche un problema Della presentazione In questi giorni Immagino Nei tuoi paese Giù C'è la commedia Cosa sarà? Presenterò Presenterò Al mio paese Di origine In occasione Delle festività Di Sant'Antonio Abate Dove verrà rappresentata Sia la mia ultima Commedia Che in dialetto Dice Scina Tenga ancora fame Sì ho ancora fame Che è la continuazione Di quella Dello scorso anno Che è la presentazione Di questo libro Che si terrà Nella sala consigliare Alla presenza Del sindaco E di altri Se mi fai venire in mente Un mio amico caro Di Caravaggio Si chiama Eugenio Bezza Che è un poeta Locale Che lui è di Pandino No di Pandino Di Agnadello Agnadello E lui quando arriva Ad Agnadello Con le sue poesie È una gran festa Mi sa che al tuo paese Più o meno è così Sì 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 Ma io mantengo anche Una pagina Due pagine dialettali Perché credo che il dialetto Non vada dimenticato Vada trasmesso Anche se Che è una ricchezza in più Non ci sono metriche Per mantenerlo Perché poi Basta che il comune Un attimino esteso Se nel centro Si parla in un modo Uno va a tre chilometri Si parla Abbiamo finito Il nostro tempo Io ringrazio D'Acheoli Faccio tanti auguri Per questo 2017 Per le sue poesie Per le sue commedie Per le sue attività Per la politica Eccetera eccetera E basta Ciao Grazie Grazie Arrivederci a tutti Arrivederci Grazie a tutti